Eccoci ben ritrovati, siamo alla seconda lezione del nostro corso didattica STEM con il tablet e questa lezione si chiama il tablet per lo storytelling digitale con i video in stop motion Avvio la mia presentazione Ok, abbiamo già, cioè abbiamo Ho già affrontato questo argomento in un altro corso, STEM Academy Infanzia che trovate linkato qui in questa diapositiva quindi se qualcuno di voi vuole andare a vedere la lezione numero 2 del corso STEM Academy Infanzia trova il link in questa diapositiva Eccola qui la lezione Quindi avevo già parlato dell'uso del video in stop motion in questo corso e anche nella scorsa lezione vi ho mostrato questo video del BeBot realizzato con l'app stop motion studio Oggi voglio andare un po' più veloce su questo argomento dello storytelling perché chiaramente voglio introdurre un uso del tablet che sia un pochino trasversale rispetto a tutti gli ordini di scuola quindi infanzia, primaria e secondaria mentre chiaramente in questo video, in questa attività di cui avevo parlato nel corso STEM Academy Infanzia chiaramente c'era un taglio molto più dedicato appunto alla scuola dell'infanzia e ai bambini più piccoli Ok? Infatti in quella lezione avevo anche, avevo come dire, scritto, avevo proposto un po' uno schema dell'attività dove c'è la stesura di una storia originale con la cosiddetta tecnica delle 5W chi, cosa, dove, quando e perché in inglese una sessione di progettazione del personaggio principale l'assegnazione dei ruoli sul set dove i bambini poi realizzano lo scenario la scenografia del nostro video in stop motion e ogni bambino ha un ruolo il regista, l'operatore, il scenografo, il sceneggiatore e l'operatore multimediale chiaramente questi ruoli sono trasferibili anche nella primaria e nella secondaria però oggi mi voglio concentrare più che su appunto dare uno schema di lavoro quindi più che sull'aspetto metodologico di come fare un video che abbia un minimo di narrazione per cui appunto vi invito eventualmente a dare un'occhiata alla lezione di STEM Academy Infanzia mi interessa proprio affrontare l'aspetto più tecnico dato che il titolo di questo corso è proprio didattica STEM con il tablet quindi il tablet l'abbiamo detto anche nella scorsa lezione ha delle sue peculiarità tecniche rispetto al pc o eventualmente rispetto ad altri device ed è proprio su questo aspetto tecnico che mi voglio concentrare in questa lezione ok? quindi ho preparato in questi giorni in ufficio ho girato un video che è questo qui ora ve lo mostro che diciamo non ha una dimensione narrativa come quello usato nell'infanzia cioè questo cosa vuol dire scusate cosa vuol dire dimensione narrativa che non c'è stata una preparazione di una storia in questo caso è semplicemente un video una sequenza anche più scenografica più anche coreografica ora lo vedrete che mi serve solo mi è servita solo per mi serve per mostrarvi proprio le potenzialità del mezzo quindi del mezzo stop motion più tablet e che chiaramente poi ognuno di voi in base all'attività di ogni ordine di scuola può in qualche modo poi può personalizzare ok per esempio appunto magari negli ordini dell'infanzia e della primaria potete lavorare un po' di più sulla creazione appunto della storia con la tecnica delle 5 W la progettazione del personaggio eccetera eccetera chiaramente già alla secondaria questo aspetto narrativo dovrebbe essere presumibilmente già acquisito e quindi magari si lavora di più proprio sul piano tecnico perché magari a tecnologie si affronta il tema della multimedialità del video delle foto del foto editing del video editing e tutta una serie di altre cose più tecniche proprio tecniche nel senso che riguardano proprio una tecnica ben precisa uno strumento ben preciso nel nostro caso il tablet allora intanto vi faccio vedere il video finale ok che è questo in play lo ingrandisco vedete che ho usato i soliti tre robottini e come vedete vabbè certo per carità uno potrebbe anche come dire a posteriori potrebbe essere un esercizio anche da da fare una specie di narrazione inversa cioè voi come docenti preparate dei video e poi fate fate inventare una storia ai vostri bambini e ai vostri ragazzi in questo caso io non ho preparato nessuna storia ho semplicemente girato una una sequenza che ovviamente è una finzione che ho potuto realizzare grazie alla tecnica dello stop motion perché nessuno di questi tre robottini si muoverebbe nella realtà veramente in in questo modo ok andiamo a vedere come proprio dal punto di vista tecnico come siamo arrivati a questo risultato dentro l'applicazione che ho installato sul tablet anzi le due applicazioni che ho installato sul tablet e questa argomentazione tecnica nel corso STEM Academy Infanzia non c'era perché ci eravamo concentrati appunto sull'aspetto proprio metodologico di avere un template proprio per costruire per diciamo inventare una storia che poi veniva filmata con la tecnica dello stop motion e vedrete adesso che proprio dal punto di vista tecnico questo video come dire è possibile proprio grazie a quella cosa che vi ho detto anche nella prima lezione alle peculiarità del tablet rispetto al pc il fatto che di fatto il tablet stesso è una webcam mobile perché chiaramente qui vedete che la che la il come dire la l'inquadratura è fissa quindi il tablet è ancorato su un treppiedi ok quindi io ho acquistato un treppiedi per tablet come vi ho fatto vedere l'altra volta ce ne sono tanti poi in realtà i treppiedi sono tutti uguali quello che cambia è semplicemente la la morsa il gancio il gancio questo qui che che tiene che che tiene fermo il tablet o tiene fermo lo smartphone è un gancio a molla ok i treppiedi poi sono tutti uguali sono standard potete usare anche un treppiedi che già avete per la videocamera per la macchina fotografica quello che dovete acquistare è l'adattatore il gancio per tenere fermo il tablet chiaramente come vi ho detto l'altra volta trovare un gancio o un treppiedi per un pc portatile è più complesso mentre il tablet è facile insomma andate su amazon lo trovate chiaramente lo vedrete anche adesso nel prossimo video dove vi faccio vedere il making of in qualche modo il dietro le quinte il monitoraggio della ripresa farlo fare questo video con un con un computer portatile con la sua webcam non avrei cioè la webcam sarebbe stata rivolta verso i robottini e avreste visto anche me da questa parte che monitoravo cosa veniva ripreso dalla dalla webcam ok da questa parte del tavolo mentre invece non mi vedete perché io sono da questa parte del tavolo ok e poi il treppiedi lo abbiamo già detto ma andiamo al video del making of che è quello su cui ci soffermeremo da adesso fino alla fine della del video della lezione allora lo ingrandisco e andiamo a vedere intanto questa ripresa è interna al tablet e per fare questa ripresa dello schermo del tablet ci sono varie applicazioni se andate sul sul google play store io ho usato questa qui vidma screen recorder come gran parte delle applicazioni c'è sia la versione gratuita che la versione a pagamento io ho usato la semplice versione gratuita così come app stop motion stop motion studio scusate che è l'app che proprio mi permette di fare il video stop motion quella che ora vedrete uno scarica la versione gratuita poi può attivare il pagamento io ho usato solo le funzionalità della versione gratuita in modo da rendere la cosa il più come dire così che potete provarla anche voi insomma senza dover stare a pensare se acquistano o no comunque mi sembra che la versione a pagamento costi 4 euro e 90 quindi non è che costa molto però io ho fatto tutto con le funzionalità gratuite proprio perché ho fatto tutto con le funzionalità gratuite anche la risoluzione del video è sì un hd però non è proprio hd hd spinto ok perché l'hd spinto il 4k viene attivato solo nella versione a pagamento e e poi in generale insomma come esperienza personale che immagino che anche voi sarete accorti in tutti questi anni di uso dei dispositivi immobili in generale le videocamere dei tablet almeno tablet di fascia bassa ora io ho usato un tablet di fascia bassa anche per come dire replicare anche la potenza la velocità dei tablet che generalmente si trovano nelle scuole e le videocamere insomma non sono sono di solito qualitativamente peggiori delle videocamere montate sugli smartphone ok quindi insomma la ripresa è meno luminosa meno definita di quella che uno fa con lo smartphone però comunque sufficiente quindi quello che vedete qui è proprio l'applicazione stop motion studio ripresa dall'applicazione di screen recording di registrazione dello schermo che ho usato sul tablet ok che di fatto è un'applicazione che fa la stessa cosa dell'applicazione di screen recording che sto usando per registrare questo video dove vi sto mostrando lo schermo del mio computer ok allora vediamo mettiamo in play e ci sono vari punti quindi la prima cosa che ho fatto apro l'applicazione ho posizionato il tablet sul mio treppiedi quindi in quadratura fissa appoggiata quindi non traballante ho posizionato i miei tre personaggi i miei tre robottini sulla scrivania apro l'applicazione e vediamo passo passo la procedura prima foto vedete tac prima foto di questa posizione dei robottini poi devo fare dei movimenti molto piccoli altra foto un altro movimento altra foto i movimenti devono essere diciamo né troppo né troppo poco ok dei personaggi e vedete è molto comodo lavorare con lo stop motion perché ora voi vedete il mio braccio che entra nell'inquadratura fermo un attimo per spiegarvi questa cosa voi vedete il mio braccio che entra nell'inquadratura ma lo vedete perché ovviamente la webcam del tablet in quel momento è aperta e riprende quello che c'è davanti e il mio braccio entra nell'inquadratura ma lo vedete perché lo schermo del tablet è stato registrato dall'applicazione di screen recording ok l'applicazione che che si occupa dello stop motion e che prende i fotogrammi come singole foto cliccando qui sul tasto rosso non lo riprende il mio braccio perché riprende solo il momento in cui faccio la foto del fotogramma ok quindi uno può comodamente entrare uscire entrare uscire dal set con le proprie mani con le proprie braccia quindi immaginatelo anche come attività di gruppo con i vostri alunni bambini o ragazzi che siano io l'ho provato con i miei figli quel video che ho usato appunto che vi ho già mostrato del b-bot che ho usato nel corso STEM Academy Infanzia l'avevo realizzato lo scorso inverno con i miei figli che hanno sette e cinque anni ok quindi il fatto realizzato significa che mia figlia quella di sette anni faceva la regista quindi stava dietro allo smartphone e semplicemente cliccava al momento giusto dava azione premendo il tasto rosso facendo scattare il fotogramma e mio figlio proprio piccolo semplicemente entrava voi chiaramente non lo vedete ve lo dico io non l'avete visto perché ovviamente nel video finale non c'è entrava nel set e spostava gli oggetti e spostava i personaggi e o addirittura abbiamo abbiamo cambiato in quel caso addirittura la scenografia perché poi se gli dite un'occhiata tornando indietro nel video vedrete che viene anche cambiata la scenografia ok nel primo scenario c'è il mare in quello nel secondo c'è la lavatrice e nel terzo scenario c'è l'isola ecologica ok mentre qui abbiamo un'unica scenografia va bene c'è il semplicemente la scrivania del del nostro ufficio di di paleos andiamo avanti vedete fotogramma ora per vedere un pochino se i movimenti erano giusti l'ho messo un attimo in play per controllare va bene mi piaceva vedete l'ho messo in play cliccando qui che c'è il play l'ho ristoppato riposiziono qua il cursore sulla macchina fotografica perché voglio prendere altri fotogrammi cambio la posizione dei miei personaggi senza esagerare azione fotogramma ok ora un altro piccolo spostamento dei personaggi fotogrammi fotogramma fotogramma e ancora lo faccio vedere tutto ancora così vi rendete conto proprio anche dell'escursione dei movimenti ok vedete che non devono essere troppo come dire abbastanza da essere visti ma non troppo certo teoricamente i movimenti potrebbero anche essere molto più piccoli e fare tanti 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 fotogrammi e accelerare la velocità uno deve trovare un po' un compromesso ora ricordatevi che dipende anche da da quali sono dall'età dei vostri alunni ok chiaramente con quelli più grandi potreste anche gestire appunto dei movimenti più sottili più raffinati e fare molti più fotogrammi o con quelli più piccoli vi muoverete insomma su un livello di approssimazione un pochino più alto ok qui ho fatto la prova l'ho rimesso in play per controllare e poi mi sono andato a riposizionare sull'ultima casella sull'ultima finestra per riaprire la macchina fotografica e ricominciare ecco che qui inizio a simulare il come di lo speronamento ok da parte del di coco del coccodrillo vediamo ora come come prosegue il posizionamento degli oggetti di scena e dei personaggi di scena ecco fotogramma ancora ecco che doc viene totalmente ribaltato eccolo qui salto scorro un po' per farvi vedere le sequenze successive scorro un po' così per arrivare poi al cambio di inquadratura qui dovevo trovare un punto di equilibrio eccolo qua adesso vedrete che il bello dello stop motion che ci permette poi di fare in maniera totalmente naturale i cambi di inquadratura cioè quindi addirittura come dire si potrebbe simulare anche la ripresa simultanea da più punti di vista guardate vedete qui l'inquadratura è cambiata ora voi lo avete visto in maniera un po' scomposta perché io vi sto mostrando il dietro le quinte ma nel video finale voi non ve ne siete accorti semplicemente avete visto scorrere il tavolo in maniera naturale ok quindi il cambio di inquadratura è facilissimo da gestire con con lo stop motion perché semplicemente uno non non registra il movimento il attaccare lo spostare i treppiedi oppure di ancorare il tablet a un altro treppiedi in un'altra posizione che 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 segua un altro punto di di presa un altro punto di vista ok vediamo poi vi accorgerei poi alla fine vi dirò la cosa più interessante che è veramente una come dire una funzionalità che che è standard però usata in maniera creativa secondo me vi da poi vi apre tutta una serie di possibilità su come fare questi video ok ecco ci siamo quasi ci siamo quasi questo dock lo togliamo poi capirete perché l'ho messo giù e non l'ho semplicemente tolto eh ora metto qui il dibotti in equilibrio e anche lui lo metto giù ricordatevi da questa cosa che ho messo giù anche il il bibotti ok vediamo ora le foto qui sono finite ricontrollo premendo il play vedete per rivedere tutta la sequenza dei fotogrammi vedete che è più lento del video finale esportato che vi ho fatto vedere alla fine e infatti entro poi nelle impostazioni per eh per gestire la velocità l'aumento un po' la metto qui su su due su due dovrebbe essere due frame per second quindi fotogrammi al secondo è ancora un po' lenta per i miei gusti e infatti poi alla fine se non sbaglio la metto a a 4 vediamo se se si vede comunque nella versione finale che vi ho mostrato all'inizio la versione esportata del video è a 4 no qui semplicemente l'ho lasciata a 2 ma nella versione finale in realtà io poi avevo scelto il 4 infatti se vedete è decisamente più più veloce che è lo scorrimento dei fotogrammi guardate vedete che questa parte finale nel video del making of ora non c'era perché in realtà i fotogrammi che vi ho fatto vedere si fermavano si fermavano scusate quando ci sono i video eccoci eccoci i fotogrammi si fermavano qua vi ricordate scorriamo ok c'era questo e poi toglievo il bibotte lo appoggiavo per terra e rimaneva solo il coccodrillo proprio sul bordo ok in realtà vedete che qui ho cambiato nella versione finale poi ho cambiato qualcosa ho aggiunto delle altre inquadrature che sono queste e come le ho aggiunte semplicemente ho fatto delle altre ho creato altre foto fotogrammi in coda a quelli che vi ho già mostrato cambiando proprio l'inquadratura cambiando il punto il punto di vista dall'inquadratura di lato sono passato a un'inquadratura frontale rispetto al soggetto rispetto al al coccodrillo semplicemente spostandomi ok ho fatto un fotogramma questo un altro un po' più ravvicinato per creare una specie di finto effetto zoom che sul tablet non si può fare lo zoom o meglio si si può fare ma viene male perché si perde risoluzione qui proprio fisicamente ho semplicemente avvicinato il tablet per creare una specie di senso di drammaticità e poi vedete un'altra così un pochino più perpendicolare rispetto al piano del tavolo in modo che si veda anche la vittima vedete qua giù la vittima precedente il dock che era già già caduto vedete interessante poi questo lavoro se ci pensate sulle inquadrature soprattutto se lo fate con i ragazzi un po' più grandi perché insomma si lavora anche proprio sul come di sul linguaggio televisivo il linguaggio cinematografico eccetera eccetera al di là del multimedia in senso tecnico dove per multimedia intendo semplicemente la gestione del file immagine o del file audio o del file video ma anche proprio sul linguaggio inquadrature ora considerate che questo è un video semplice che ho fatto in una mezz'ora l'altro giorno in ufficio quindi uno può fare tante cose soprattutto come lavoro di gruppo potete fare delle cose molto più elaborate e poi vedete c'era un altro fotogramma dove c'è il doc giù ok quindi si il doc scusate anche il 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 b-bot giù per questo vi dicevo ricordatevi che il b-bot appare giù per farvi vedere che poi ho creato un altro pezzo di narrazione che però non era in continuità con quello precedente è stato proprio spostare il tablet e e fare una nuova inquadratura proprio come si fa nel cinema e poi viene attaccata e sembra che sia la naturale prosecuzione quella precedente ma in realtà ho cambiato la posizione ho rispostato gli oggetti ma uno quando vede il finale non se ne accorge ok semplicemente di là ve ne accorgevate perché c'era il video del making of ma questo è il video finale e vi sembra naturale che tutto sia stato magari girato una cosa dietro l'altra in realtà no in realtà nella prima stesura del video l'avevo fatto in quel modo come vi ho mostrato nel video del making of e poi però ho detto sarebbe interessante aggiungere un'inquadratura diversa e quindi poi ho aggiunto quest'altro pezzo anche con un'inquadratura appunto dal basso poi finale del coccodrillo killer in qualche modo compiaciuto sarebbe stato uno avrebbe dovuto in qualche modo usare una specie di effetto speciale magari mettere una basetta che non si vedeva nell'inquadratura dove lo sguardo del coccodrillo poi fosse rivolto verso verso il basso ok e la cosa interessante è che come ho fatto ad aggiungere queste queste foto questi altri fotogrammi semplice rientro dentro il video del making of per farvi rivedere come era l'interfaccia del dell'applicazione semplicemente vedete che dopo l'ultimo fotogramma c'è sempre una casella con l'immagine della foto e quindi io in un secondo momento anche dopo essere uscito e rientrato nell'applicazione posso cliccare qui e aggiungere altri fotogrammi non solo se uno va su più o meglio prima di dirvi il più volevo dire che c'è anche il modo semplicemente cliccando in mezzo alla sequenza dei fotogrammi precedenti ora qui non lo vedete potete spostare la macchina fotografica anche nel mezzo quindi aggiungere anche delle fotogrammi extra nel mezzo a quelli già fotografati ok quindi io avrei potuto fare anche delle inquadrature delle false inquadrature alternative come se ci fossero state due o tre videocamere o fotocamere in realtà farle solo con una fotocamera perché le aggiungo dopo se ci pensate cioè io avrei potuto aggiungere un'altra inquadratura magari da da questo lato del coccodrillo e inserirla boh cinque sei sette fotogrammi prima della fine ok quindi questa tecnica ci permette con una sola fotocamera con un solo tablet di fingere di averne anche due tre quattro cinque proprio come si fa in un film dove si hanno vari punti di ripresa punti di vista ok solo che nel film di solito dato che creare una scena costa perché bisogna ovviamente occupare tutta la troupe un certo spazio eccetera effettivamente ci sono più videocamere che riprendono la scena da più punti di vista nel nostro caso non avendo possiamo fare per finta ma sappiamo anche che nel cinema in realtà si rigirano si girano due volte delle parti che sono sempre nella stessa scena per esempio il primo piano rispetto al cioè rispetto a quando c'è la ripresa un po' più ambientale o rispetto al primo piano di un attore il primo piano non viene ripreso indirettamente si sta girando l'ambientale viene aggiunto in un secondo momento con un'altra ripresa che poi si incastra con quella precedente ok come qui quindi uno qui si può veramente poi anche con un solo tablet può creare un video che magari è ripreso veramente da due tre quattro punti di presa punti di vista ok quindi bello soprattutto per i ragazzi più grandi può essere interessante nella versione a pagamento se uno poi clicca sul più ha anche la possibilità di aggiungere un file audio che faccia un po' da colonna sonora direttamente dentro l'applicazione o ha anche la possibilità di importare delle foto che già fatte sul tablet che magari sono presenti nella galleria e di importarle in qualsiasi punto ok se usate solo la versione gratuita potete solo spostare la macchina fotografica come vi ho già detto in altri punti della sequenza per scattare il fotogramma in diretta non è che potete caricare magari delle foto che avete già fatto in precedenza per quello ci vuole la versione a pagamento ok quindi vi faccio alla luce di di quanto vi ho spiegato vedendo il making of vi faccio anche rivedere quello vecchio quello di il video questo qui per capire ora potete intuire anche meglio come è stato realizzato questo questo video qui ogni volta che appunto che faceva veniva scattato il fotogramma mio figlio entrava in scena e spostava gli oggetti ok vedete e in questo caso c'è stato anche il cambio di scenografia vedete dall'arancione siamo passati al al blu e poi qui il blu e questo mi ricordo che cos'era un marrone scuro un grigio scuro eccetera eccetera qui la qualità della ripresa è un pochino vedete un pochino più definita perché questo fu fatto con lo smartphone non con il tablet infatti vedete che le foto sono un po' più definite rispetto a quelle fatte con il tablet un'ultima cosa che vi volevo far notare che ve l'ho detta prima appunto anche qui vedete la naturalezza del cambio di del cambio di inquadratura ok è talmente naturale che uno nemmeno se ne accorge qui dello dello scorrimento del tavolo ok questa è più evidente chiaramente ma questa qui vedete che è totalmente naturale il fatto che il tavolo scorra ok uno avrebbe potuto farlo ancora più raffinato facendo magari uno o due scorrimenti intermedi invece di fare questo scatto così evidente però insomma questo come dire è una decisione che potete prendere voi in sede di regia e di ripresa con i vostri ragazzi ok brevissimo riepilogo della nostra lezione video in stop motion per lo storytelling digitale il titolo della lezione abbiamo detto che in realtà è il tablet per lo storytelling digitale con i video in stop motion questo qui era come dire l'attività ok al di là del titolo della lezione l'attività è usare i video in stop motion per lo storytelling digitale ci siamo avvalsi dell'applicazione che sia gratuita che a pagamento stop motion studio quindi voi userete questa con i vostri alunni chiaramente i vantaggi del tablet come abbiamo detto rispetto al pc per fare un lavoro del genere sono assolutamente evidenti webcam mobile monitoraggio della ripresa tre piedi per il tablet ok e poi nel mio caso a voi non serve per fare questa attività però può servire per altri usi vi ho parlato anche dell'applicazione di screen recording Vidma che a me è servita chiaramente per farvi vedere il dietro le quinte il making of però insomma per fare l'attività a cui i vostri ragazzi non vi serve però può essere utile per tutta una serie di altre cose che andrete ad analizzare magari per contenuti didattici che riguardano la didattica a distanza per cui avrete la necessità di riprendere ciò che c'è sullo schermo del vostro tablet mi raccomando usate questa applicazione non riprendete lo schermo del tablet col vostro telefono o comunque fatelo in una situazione di buona luminosità io non l'ho potuto fare perché c'era troppo riflesso perché alle spalle di quello che vedete alle mie spalle c'è la vetrina del nostro negozio ufficio che è molto luminosa soprattutto nel pomeriggio e quindi c'era un sacco di riflesso e non per quanto tenessi alta la luminosità del tablet non ce la faceva competere con con la luminosità del sole e quindi non potevo riprendere lo schermo con il con il cellulare ok e quindi ho dovuto usare per forza l'applicazione di screen recording io vi saluto la lezione è finita ci vediamo e ci sentiamo nei prossimi giorni con la lezione numero 3 dove parleremo di tinkercad ok ciao buon lavoro e alla prossima